Allora, Sabina, come sei diventata proprietaria di questa splendida scuola di sci? A dire la verità, quando ero giovane non mi interessava per niente lo sport. La mia passione era viaggiare e il mio primo lavoro è stato in un'agenzia di viaggi. Mi piaceva aiutare le persone a trovare la loro vacanza ideale. Perché hai cambiato lavoro? Uno degli operatori turistici mi ha offerto una vacanza premio in montagna e quando sono andata a sciare per la prima volta mi sono subito appassionata a questo sport. Da allora sono andata a sciare tutti i weekend. Sono diventata brava e gli istruttori mi hanno convinta a passare gli esami per poter insegnare durante il fine settimana. Perché ti sei appassionata alla montagna e allo sci? All'inizio era la neve, l'aria, il cielo limpido, i paesaggi, il contatto con la natura, le camminate lunghe e poi le serate passate a mangiare e a chiacchierare con gli amici. Come mai hai deciso di aprire la tua scuola di sci? Ho visto che c'erano sempre troppi clienti nella scuola dove insegnavo al weekend. Ho pensato che questa era un'opportunità per aprire una nuova scuola ed ero sicura di avere successo. Così sono riuscita a trasformare la mia passione in un lavoro. Quanto tempo ci hai messo ad aprire la tua scuola? Ci sono voluti sei mesi per trovare il posto ideale e i soldi necessari. È stato subito un successo? Sì. La scuola dove insegnavo mi ha passato i clienti che loro non potevano accettare. E poi ho cominciato ad essere più conosciuta e trovare clienti miei. Chi frequenta la tua scuola? Sono soprattutto stranieri che vengono a fare una settimana bianca. Sono molto entusiasti e alcuni tornano tutti gli anni. Che tipo di corsi offre la tua scuola? Cerchiamo di avere molta scelta. Abbiamo corsi per principianti e corsi per sciatori con esperienza. Abbiamo anche corsi speciali solo per bambini e corsi meno pericolosi per anziani. Quali progetti hai per il futuro? Già dal prossimo anno ho intenzione di cominciare a fare lezioni di notte e trovare nuovi istruttori per insegnare in lingua straniera. Ho anche molte altre idee da sviluppare in futuro. Grazie. Adesso sentirai l'intervista per la seconda volta. Allora, Sabina, come sei diventata proprietaria di questa splendida scuola di sci? A dire la verità, quando ero giovane non mi interessava per niente lo sport. La mia passione era viaggiare e il mio primo lavoro è stato in un'agenzia di viaggi. Mi piaceva aiutare le persone a trovare la loro vacanza ideale. Perché hai cambiato lavoro? Uno degli operatori turistici mi ha offerto una vacanza premio in montagna e quando sono andata a sciare per la prima volta mi sono subito appassionata a questo sport. Da allora sono andata a sciare tutti i weekend. Sono diventata brava e gli istruttori mi hanno convinta a passare gli esami per poter insegnare durante il fine settimana. Perché ti sei appassionata alla montagna e allo sci? All'inizio era la neve, l'aria, il cielo limpido, i paesaggi, il contatto con la natura, le camminate lunghe e poi le serate passate a mangiare e a chiacchierare con gli amici. Ma soprattutto mi piace lo sci perché mi sento libera. Come mai hai deciso di aprire la tua scuola di sci? Ho visto che c'erano sempre troppi clienti nella scuola dove insegnavo al weekend. Ho pensato che questa era un'opportunità per aprire una nuova scuola ed ero sicura di avere successo. Così sono riuscita a trasformare la mia passione in un lavoro. Quanto tempo ci hai messo ad aprire la tua scuola? Ci sono voluti sei mesi per trovare il posto ideale e i soldi necessari. È stato subito un successo? Sì. La scuola dove insegnavo mi ha passato i clienti che loro non potevano accettare. E poi ho cominciato ad essere più conosciuta e trovare clienti miei. Chi frequenta la tua scuola? Sono soprattutto stranieri che vengono a fare una settimana bianca. Sono molto entusiasti e alcuni tornano tutti gli anni. Che tipo di corsi offre la tua scuola? Cerchiamo di avere molta scelta. Abbiamo corsi per principianti e corsi per sciatori con esperienza. Abbiamo anche corsi speciali solo per bambini e corsi meno pericolosi per anziani. Quali progetti hai per il futuro? Già dal prossimo anno ho intenzione di cominciare a fare lezioni di notte e trovare nuovi istruttori per insegnare in lingua straniera. Ho anche molte altre idee da sviluppare in futuro.